Entro la primavera, meteo permettendo, i due nuovi scolmatori di Via del Bersaglio e di Viale Ruggeri saranno terminati con le nuove condotte che porteranno le acque reflue oltre le scogliere frangiflutti. Per i primi di febbraio è previsto l'arrivo del pontone che metterà in posa le due tubazioni della lunghezza di 380 metri per un metro di diametro in Via del Bersaglio e di 360 metri di lunghezza e 60 centimetri di diametro invece per Viale Ruggeri e che avranno entrambe una portata di 3 metri cubi d'acqua al secondo. Le due condotte saranno alimentate da due vasche di raccolta della capienza di oltre 300 metri cubi e saranno munite di 5 pompe che permetteranno di portare a largo le acque. Un'opera del valore di 2 milioni di euro prima in assoluto nelle marche. La prima volta che è nelle marche si applica questo genere di tecnologia, questo genere di impianti. Sono impianti previsti comunque dalla normativa regionale per tutto quello che ha a che fare con la tutela delle acque e per la prima volta viene fatto da noi. Viene fatto a Fano e quindi è un'esperienza che da questo punto di vista ci rende molto orgogliosi di quello che stiamo facendo. Questa soluzione nella speranza degli amministratori darà sicuramente una risposta agli annosi problemi di allagamenti della zona e di balneabilità delle acque della Sassonia e perché no, ma questo è ancora da valutare ad opera ultimata, anche ai problemi che affliggono gli abitanti e le attività commerciali di via Pisacane che sistematicamente ad ogni pioggia abbondante vanno sott'acqua. Sassonia sarà una delle acque più pulite della riviera adriatica, oserei dire, perché ovviamente questa operazione costosa e anche ingegneristicamente molto importante permetterà appunto questo, cioè non ci saranno più divieti di balneazione in assoluto in tutto questo tratto di spiaggia e questo è sicuramente un ottimo risultato. In più l'altro risultato è che probabilmente non ci saranno più allagamenti, almeno così speriamo, in maniera tale che anche quelli che vivono a nord, quindi a monte della ferrovia e della Statale 16 potranno avere un sollievo perché è possibile, noi ci auguriamo che questo avvenga dal punto di vista ingegneristico, è possibile che questi nuovi scolmatori riescano a ridurre i disagi di allagamento lungo via Pisacane.